Un buon primo maggio da tutto lo staff di Meteo One e Teleappola e bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Nel Mediterraneo va espandendosi un campo di alta pressione che permetterà cieli sereni e climamite su buona parte del sud Italia anche nei prossimi giorni. Al nord invece un'intensa perturbazione atlantica comincerà ad apportare un cambiamento delle condizioni meteo già durante la giornata odierna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì primo maggio. La giornata sarà caratterizzata da cieli e climamite. Difatti al mattino il sole dominerà gran parte del territorio pugliese e lucano. Al pomeriggio nubi innocue alte potranno oscurare i cieli delle aree più interne ma senza rischio di fenomeni. Durante la sera tornano i cieli sereni ovunque. Le temperature come notiamo dalla grafica risulteranno in aumento nei valori massimi, stazionari invece le minime. Soffieranno venti deboli variabili con locali rinforzi dai quadranti occidentali, sulle alture lucane e sul subappennino. I mari risulteranno da calmi a poco mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Vanni Calò per questo meraviglioso tramonto colorato direttamente dal litorale di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.